Ciao a tutti e bentornati su Let's Play di Borderlands 2 con Riccucune Medusa Questa parte è molto molto importante per questo Let's Play perché questa sarà la prima parte e anche credo il primo video registrato sul mio nuovo computer Infatti vedete quanto siamo fluidi osteria Mamma mia E recentemente YouTube ha permesso agli utenti di caricare video più fluidi di 30 fps Raggiungendo un massimo di 60 fps E quindi questo video dovrebbe essere anche il mio primo video a 60 fps Vediamo un po' come dice Intanto la qualità di Borderlands è nettamente superiore rispetto alla parte scorsa E questo lo noterete subito E poi vedremo se anche i 60 fps si faranno sentire Sara cosa mi pensi? Wow Ok siamo a Bloodshot Ramparts Ramparts non ce la fai Ramparts sono sequissimo Ah si è vero che c'erano a sbisticciare anche l'altra volta Esatto Oh per me Bloodshot Ramparts punto I rampanti dei Bloodshot Vabbè qua dietro c'è tipo un Come si chiama Un bel essere anche da fare easy Basta mettere 5 dollari dentro quella cabina lì Non so come si chiama È una cassetta E la mia torretta fa Fai dannazzi Con gli occhi all'explode Però adesso c'è l'exploder sopra e muo' la torretta Non importa Andiamo avanti Torretta sabre Sabrutin torret Sabrutin torret Cazzo è morto un Bloodshot Ma era quello che ci parlava al telefono Andi Quello che è esplodo Era quello che ci parlava al telefono Non ho visto No ma Ah no ecco è ancora vivo Ah Verdo Cosa succede Bloodshot Sto sentendo più colpi di pistola del solito Ok Eh? No il flank stick lì Bloodshot cosa succede Sto sentendo più colpi di pistola del solito Ah ok adesso qualcuno l'ha ucciso Stiamo facendo un sacco di festa Ma che qualità omg Basta smettila Voglio anch'io Beh quando vieni Alla mia Ma io sono capace di prendermi il pc nuovo solo per Per la graffa Io c'ho una cosa tossica oggi Mamma mia Io ne avevo bisogno del computer nuovo Perché mi si spegneva quando giocavo a giochi pesanti Al punto Ma mi si spegneva Non è che dici vabbè non giro nella qualità massima Si può sopportare Perché è quello che ho fatto per anni Però proprio Mi si spegneva il computer Quando facevo partite di Dota Avevo sempre il timore Che mi si spegnesse Che mi si spegnesse il computer E quindi Ho detto no basta Questa situazione non è più gestibile No E Computer nuovo Wow Fantastico Ah ok Novità? Ah si Parliamo del giveaway Non abbiamo ancora deciso un cazzo No ma in questi giorni adesso Ci sono ancora le vacanze di Pasqua per me E anche tu Sara domani sei a casa Sì Diciamo che domani Quindi lo stesso giorno in cui caricherò il video Scriveremo la lista delle armi leggendarie Di cui faremo il giveaway E poi vi aggiorneremo sulla pagina Facebook O su Twitch In questi giorni siamo stati un po' presi entrambi Già Però adesso Dedicheremo questi due giorni a Youtube A questo giveaway di Balvin E' buona E io un po' di tosse Io anche tossirò parecchio oggi E anche per quello che non ho registrato Nessun altro video Perché Mi hanno detto un po' di mal di gola Non mi andava di registrare video Però Se c'è anche Sara Che Mi 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 copre i momenti in cui tu esiste Ah buona Pasqua comunque Esatto Carpiard Sì caricherò il video domani però Quindi per voi sarà già passata la Pasqua Sì vabbè buona Pasquitca allora Solitamente Solitamente i video li registro il giorno prima Parto di Linci Sì solitamente i video li registro il giorno prima Li vanno online Sto facendo il podcast challenge ogni due secondi Riccardo Sì anch'io E' meglio Sono Baddest points anche per il tuo personaggio E' bello che I baddest points che prendi con qualsiasi personaggio Rimangono con tutti Cazzo la precisione Penso Non lo so Io non lo so Sì sì è così Speriamo di non aver detto una minchia No no è vero Sono sicuro di questo Io sto usando l'RPG per tirarvi quel baddest No io so Che merda Stai armi Dietro dietro sono il survivor Sì anch'io armi di merda perfetto Andiamo se scattirò il baddest lo riesce a animarmi Sì Ti matiro il baddest lo vero No no il survivor lo cura lol L'ho sciottato Boom No boom Ancora? Eh thank you Cazzo non l'avevo visto Ma io ho anche l'abilità giusto Lel Ti eri dimenticato dell'abilità Sì 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 da sì È che l'altro giorno mi ero messa a cazzeggiare un po' su Borderlands E non ho usato l'abilità perché cioè dovevo cercare delle robe per i baddest point Eh In normal così non avevo nessuno che mi rompeva i coglioni E non usavo l'abilità giustamente perché non mi serviva E quindi niente mi ero messa Cioè mi ero dimenticata Eeeh Ti capisco Oddio stanno Sara vieni che qua c'è Che palle sti robbi Eh scusa Qua sotto c'è il cult of the vault È l'unico simbolo della cripta di questa mappa per prendere il baddest point Esatto C'è un exploder che sta contando Eccolo Ti butta giù NP Sono vivo Ops se mi sono incolato a un servivato Nessuno muore Muoio No sono vivo Non so anche muore Boh ho trovato un revolver per terra che è allucinante I revolver sono fortissimi Soprattutto a difficoltà basse A livelli bassi eccetera I revolver ho bisogno delle mie armi arancioni Mi sento nuda con queste armi qui Ho usato tipo un exploder per fare un salto in avanti Va bene Che palle Che palle Mamma mia goto retina go go Ho bisogno di uno shotgun della torg per inizio Della torg Eh sì Della torg Anche quelli sono molto forti Quando a livelli bassi eccetera Tu e la tua torretta di merda Fate qualcosa per favore L'ho ritirata la torrettina No perché? Perché stava Non si stava morendo E stava finendo anche il tempo Cazzo ma no What? Eh? Ok Ho sparato con il Con l'RPG Non ho fatto danno No Oddio Oddio mi è volato via col robo Il fatto di avere un nuovo computer è che devi riscaricarti tutto praticamente Voglio vedere Axton ad alti livelli cosa fa perché non mi sono mai interessata No Axton è il peggiore Lo so che fa cagare Axton Kit medico Uè dove? Bello Mio mio Anche a me Cioè anche a me interessa Axton a livelli alti però Cioè a livelli molto molto alti e non ho voglia di rifarmi ancora la storia per tre volte Davvero? Sì fuori di testa E come mai farai ad avere tutti i personaggi? Io ci sto già Sto già Lavorando Stai lavorando per avere tutti i personaggi al 72 o più 8 Eh sì Sì fuori di testa Poi Sara ammazziamo questo warden Sì C'è quel controllore che mi sta già sulle palle È andato Devo tirare la mia torrettina Mmm ma no Io sono uno zero player Mi viene da lineari nemici per farli fuori Nooo sono un cartello Per il Q Quello nella pallina per favore Quello che cosa? Un shield survivor Cioè metto retina che sta sparando poco a poco continuo Lo scudo è infatti andato Sì buono Quel coglione lì ha rubato Axton Non è Axton No non Axton È Roland È Roland Che è la versione di Borderlands 1 di Axton Esatto E E Warden È praticamente Il costruttore che l'ha preso Esatto Ovvio Ehm Adesso vai giù Vai giù Lei sarà il colpo di grazia a te Ovvio Yes Ci hanno salito il livello entrambi? No Sei al 13 A me è mancando attacche per il 13 Fantastico Eh Thank you Cosa ho droppato? Le robe a caso Granati Adesso infatti vedete che qui c'è la torretta Scorpio La torretta Scorpio appunto Eh Le torrette Scorpio erano Le torrette dei 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 Che zitto Dei Dei soldati Lens Ovvero quelli del primo Quelli Era praticamente l'Hyperion del primo Ehm Anche se anche se già nel primo c'era l'Hyperion Però Ehm Niente Sto qua in pratica è come Come axon Già Però Però è neg E abbiamo messo le le torrette affiancate Sì infatti vi sentite carini? Sì Ostia C'ho un punto da distribuire dai Non puoi adesso cazzo Beh adesso l'over là che non andrà mai giù Sì No fucking shit Sì Che bello vedere vedere l'ex che sale Riccardo Eh già Da un perso l'abitudine Siamo più abituati a vedere l'ex che sale Eh già Cosa è successo? Niente Spero Madonna oh non va giù Ma quanto sono tanto così belle essere in... No ma No No Soprattutto Che palle basta Porca troiaccia Qui c'è tipo anche gli easter egg della cosa che parte... Eh infatti è lì Eh c'è un bad ass loader però Vabbè più tardi Sì lo vedo comunque Quanto c'è il negro Quel robo lì L'hai fatto vedere non... Sì Cioè non sappiamo di che cos'è quegli easter egg però... È una camionetta che vola È una camionetta che vola È una camionetta che vola A random Vabbè Comunque... Ho cambiato lo scudo con uno che mi conviene per il mio skill trick Bravo Dovresti essere salita? Sì si è salita È successo qualcosa Ho fatto rapporto da Roland e si è salita Bene Oh Angel Meno male che Jack non ha mandato Willem Mmm... Ricordatevelo sto Willem Che importante Che importanzio Importanto Ok aspetta che metto... No spero... Qua c'è una cassa gigante Non c'è niente Ci sono solo munizioni Vabbè... Ci sono anche dei... Dei peti Va bene Cioè un modo di classe per te Un altro modo di classe... Ci sono solo modi di classe per te Oh 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 E uno per il Gunzerker Grazie il gioco Oh 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 vai via Aspetta che ti troppo quello della Siren Ti troppo anche una testa di Axton Non so perchè... Oh... La testa non l'hai presa? No ce l'ho già Allora la tengo io Dai andiamo Andiamo a Sensualy Sensualy Bene Vado io... Ho tirato un'arma Bruttissimo quell'arma oltretutto Madonna Eh... Sei un Power Ranger Uè... Sì Oh... Centauri 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 Comunque dovresti salire a sentire dialoghi invece di aprire le casse Sì Ah ma sono i due piccioncini che... che conversano Ma vieni un po' qua e non interromperli Riccardo un po' di contegno per le persone però... Scendi porca troia Va bene... Va bene... Va bene... Vai via... Vieni... Oh mio dio... Sì dai... Ehm... Dai... Ma perchè mi esce il pulsante per toglierla però... Non lo so... Puoi toglierla comunque... Poi intanto raccolgo quelle secondarie Bravo Vai vai vai... Parla con Roland Rikki... Dimmi... Non schierare le sentinelle... L'ho messa sul tavolo tra l'altro... Se entri nella... Ecco... Si vabbè... quello lì è negro... Continua a parlare comunque... Riassumiamo praticamente... Brava... Jack il bello vuole controllare la cripta e non la vuole... Non la vuole... Cioè non vuole prendere il bottino per sé perché non c'è nessun cazzo di bottino... E... Ehm... Alla chiave della cripta la sta caricando quindi... Cioè... Nello stato in cui siamo ora potrebbe benissimo aprire la cripta... Però... Gli manca del tempo per caricarla... Perché... Cioè la chiave della cripta... Non apre la cripta così... Cioè... Deve essere caricata prima... Quindi... Signori... Parchiari... Quindi parliamo con Tannis... Prendiamo tutte le missioni secondarie di... Sto posto... Che ogni volta che andremo avanti nella storia ci... Buccheranno sempre un fottio di missioni secondarie... Esatto... Poi chiudiamo la parte perché siamo già a... 19 minuti di cui taglierò qualcosa... Bestiam... Ecco... Le sue ricerche del cazzo... Sì... Le missioni secondarie sono molto... Diciamo... Off topic... Della storia... Già... Però... Cioè ti fanno capire di più Pandora... I personaggi... Eccetera... Arandopa... Cosa... E quindi è bello così... Vabbè... Ma poi hai lasciato il Sir Hammerlock con... Con una siringa in mano... Non me ne ero accorta... Scusami... Credo che per la prossima parte... Resetterò il mio skill tree... E inizierò a farlo con un criterio logico... Seguendo una build di qualcuno... Perché... Ecco sì... Lo resetto subito... Ancuno... E... Ho nove punti da distribuire... Adesso... Il primo lo mettiamo per forza nell'abilità... E poi... Per il resto... Seguo una build e poi vedo... Bene... Detto questo... Sara... Ci abbiamo... Sì... Per giveaway e cose così... Tipo aggiornamenti di... Del canale eccetera... Abbiamo la pagina Facebook... Che Riccucum mette sempre in descrizione... Altri contatti tipo Ask... Steam di entrambi eccetera... Sempre in descrizione... È tutto... Ciao a tutti... Ciao a tutti da Riccucum e Medusa...